benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto il vuoto che avete appena sentito non proviene da uno stadio di calcio o da una finale olimpica dei 100 metri arriva dagli spettatori ammassati intorno alla sedicesima buca del phoenix open nel febbraio del 1997 non è una buca qualsiasi ma è quella che gli appassionati chiamano the coliseum il colosseo sia per via delle tribune che abbracciano il campo gara che soprattutto per il tifo sguaiato d'anfiteatro romano appunto e nell'arena quel giorno c'è sua eccellenza tiger woods l'uomo che sta facendo innamorare del golf l'america e il mondo intero noi però vogliamo estragnarci da quel boato vogliamo riavvolgere il nastro e tornare indietro di una manciata di secondi per capire che cos'è appena accaduto siamo a scottdale nello stato dell'arizona e tiger ha solo 21 anni il petto smilzo e la faccia da ragazzino indossa un completo da gioco blu e indossa scarpe bianchissime bianche come il suo sorriso nascosto ad arte dietro ad una smorfia di concentrazione il green e 150 metri più avanti un'oasi verde sullo sfondo delle montagne rocciose dal punto in cui il campione si trova la buca è soltanto un puntino nel nulla un moscerino in una galassia sconfinata un colpo secco il rumore inconfondibile del ferro che colpisce la pallina da sotto un microsecondo prima di falciare la zolla di terra dagli spalti parte un o infinito suonano i campanacci in molti si mettono a gridare a squarciagola eppure eppure nell'attimo esatto in cui la pallina rimbalza su green sembra che qualcuno abbia premuto l'interruttore off all'improvviso è silenzio tutti zitti con il fiato sospeso il mondo del golf ha perso la voce nel momento in cui il suo dio ha parlato menando il ferro come solo lui sa fare ed è proprio seguendo quel volere soprannaturale che si realizza l'improbabile dopo il rimbalzo la pallina incrocia la parabola perfetta e finisce direttamente in buca all in one buca in un colpo solo uno dei momenti più iconici della storia del golf di colpo al tpc scottsdale golf club scoppia il pandemonio all in one non è soltanto un'opera del grande maestro è anche il titolo di questo podcast un viaggio pensato per raccontare la magia del golf e per accompagnarci alla scoperta delle sue storie nascoste delle sue leggende del suo magnifico glossario pieno di significati nel significato un tuffo nel verde per sfatare anche alcuni luoghi comuni polverosi che da sempre circondano questo meraviglioso sport un esempio beh intanto con il racconto del phoenix open del 1997 abbiamo demolito il cliché che vuole i campi da golf come luoghi riservati soltanto a gentleman dalla plomb impeccabile sempre capaci di contenere lo scorrere delle proprie emozioni ma andiamo avanti perché questo è soltanto il primo di una lunga serie il golf è ancora un passatempo elitario è davvero una disciplina poco faticosa per scoprirlo ci affideremo a due persone che il golf lo conoscono da molto molto vicino uno è massimo caputi di cui avete appena sentito l'inconfondibile voce un giornalista sportivo e volto noto della televisione che pur avendo legato per sempre la sua carriera al mondo del calcio 14 anni fa si è lasciato letteralmente contagiare dal virus di ferri e bastoni e oggi è tra i tanti che hanno perso la testa per il green l'altro è gianluca pietro bono un ex giocatore professionista che oggi allena le giovani promesse del golf italiano in ciascuna delle sei puntate di questo nostro cammino ci concentreremo su una delle parole che definiscono il vocabolario del golf usandola come strumento per aprirne il vaso di pandora e scoprirlo poi in tutte le sue sfumature oggi per cominciare sarà il termine swing ad aprirci le porte di questo mondo stregato milioni di appassionati hanno rivisto il colpo di tiger woods non una ma decine decine di volte incantati non dal risultato la buca in un colpo solo ma anche inesorabilmente attratti dall'eleganza di quello swing che nelle mani del fuori classe americano arriva quasi ad accarezzare i lineamenti della perfezione ma che cos'è esattamente lo swing ce lo spiega gianluca pietro bono uno che passa le giornate a costruire rivedere aggiustare limare questo gesto nei giovani atleti lo swing è il movimento base di ogni colpo del golf si esegue lo swing dal drive che è il primo colpo di ogni buca quello più ampio spettacolare ma si esegue anche nei colpi finali che si giocano sul green e sono più contenuti perché coprono distanze più brevi è un gesto molto complesso dal punto di vista tecnico in cui giocano un ruolo importante anche il ritmo e le sensazioni qualcosa di così complesso che è difficilissimo da raccontare è una torsione del busto con le braccia che si caricano all'indietro per poi ridiscendere e impattare la pallina quando tiger vinceva aveva uno swing quasi perfetto perché riusciva ad ottenere un movimento molto fluido pur esprimendo il massimo della sua potenza non è facile perché più cerchi di aumentare la forza per mandare la pallina lontano e più tende a scomporti la difficoltà è proprio questa abbinare la potenza all'eleganza della coordinazione è un gesto così complesso che nella classifica degli sport con la più alta componente tecnica il golf si piazza quasi in cima al secondo posto secondo soltanto al salto con l'asta è una familiarità che richiede una continua messa a punto perché basta cambiare anche di un solo millimetro l'impugnatura del ferro o l'ampiazza del proprio movimento per sbagliare qualcosa ma è anche un gesto che evolve nel tempo che cresce con l'esperienza e obbliga anche il giocatore più esperto a continue rivisitazioni persino tiger a un certo punto della carriera si è reso conto che il suo swing non andava più bene e così è ricominciato da capo pezzo dopo pezzo dal setup all'impugnatura dall'allineamento delle spalle al backswing fino alla fase più spettacolare la discesa del ferro che deve avvenire in modo fluido senza interruzioni per poi risalire dall'altro lato dopo aver colpito la pallina portandosi dietro le anche le spalle che ruotano per assecondare il gesto avete riconosciuto questa musica dite la verità state già dondolando con le anche o tambureggiando con le dita sul tavolo anche questo è swing musica swing per l'esattezza un genere nato nell'america degli anni 30 quando il paese era alle prese con la grande depressione scoppiata nel decennio precedente a cui tempi i giovani avevano voglia di distrazione a buon mercato cose semplici che gli permettessero di staccare la spina dalla crisi economica e occupazionale e così le grandi orchestre di musica jazz fiutando la pancia della nazione si sono messe a produrre ritmi sempre più coinvolgenti sempre più contagiosi contagiosi sempre più spenserati che hanno invaso le sale da ballo e fatto scatenare generazioni di ragazzi ma che cosa c'entra tutto questo con il golf c'entra eccome e non è soltanto una questione di incroci lessicali duke hellington uno dei giganti dell'era swing insieme a glenn miller e frank sinatra ha scritto forse il brano più famoso di questo genere musicale che in america è diventato lo slogan di un'intera epoca si intitola it don't mean a thing if it ain't got the swing che in italiano si traduce così non significa niente se non hai lo swing certo duke hellington si riferiva a quel dondolio scatenato che impazzava tra i ragazzi di allora ma senza saperlo lui che quasi certamente non aveva mai preso in mano un bastone da golf ha messo nero su bianco il comandamento numero uno del giocatore di golf perché sul green senza lo swing non sei niente non è così massimo è esattamente così quando perdi lo swing è difficilissimo ritrovarlo tu sai esattamente che cosa devi fare ma per qualche motivo non ci riesci più non capisci che cosa non funziona e allora la testa comincia a vagare non si ferma più ti arrovelli chiedendoti perché se stai facendo le stesse cose di prima nulla funziona più così comincia a fare supposizioni come un detective muovo troppo la testa faccio il backswing troppo corto sono troppo veloce nel downswing la verità è che da solo non ne vieni a capo non puoi capire dove sbagli non riesci a rendertene conto hai bisogno di un maestro qualcuno che ti supporti facendoti capire dov'è l'errore e come correggerlo la verità è che a volte l'errore è proprio dove meno te lo aspetti e cioè nella tua testa perché prima ancora dei muscoli dei polmoni o del cuore nel golf quello che conta è la mente la concentrazione quella capacità di stare nel qui e ora una sorta di mindfulness applicata al rapporto tra te e il campo e a proposito di swing è sufficiente un pensiero negativo o una distrazione all'apparenza innocua per mandare all'aria ore e ore e ore di pratica e di allenamento è per questo che i giocatori prima di sferrare il colpo sono avvolti da un silenzio quasi religioso come se il mondo volesse farsi da parte e lasciare così al campione lo spazio per affermare se stesso ma quando la mente parte per la tangente gianluca che cosa succede beh se parliamo di amatori spesso succede che anzi che è una bella parabola con la pallina che si alza in volo e poi scende a terra ci si ritrova con un rattone un raso terra che rimbalza come quando si gioca a far saltare i sassi sulla superficie dell'acqua il più delle volte l'impatto ad essere sbagliato la pallina non si alza perché viene colpita dall'alto viene schiacciata verso terra invece bisogna sempre avere la sensazione di far entrare il bastone da sotto come ad elevarla in modo tale che c'entri la pallina poco prima di impattare il terreno il rattone una parola che già di per sé evoca qualcosa di poco piacevole è la discesa negli inferi di ogni golfista amatore o professionista che sia se poi le ripeti diversi di fila finisce dritto dritto nel girone più basso proprio accanto a lucifero è quella cosa che ti toglie il sonno la notte e ti fa tornare sul campo prima possibile per riprovarci ancora e ancora per cercare disperatamente di ritrovare uno swing fatto bene che al contrario del famigerato rattone al potere di portarti dritto in paradiso te ne basta uno uno soltanto per sentirti di nuovo bene ed entrare nel flow quello stato di grazia in cui tutto diviene senza pensare quando la pallina prende il volo è un'emozione incredibile capace persino di farti perdere il contatto con la realtà per un secondo soltanto la osservi e pensi ammazza che fenomeno che sono anche se sotto sotto sai perfettamente che non lo sei affatto si dice che il golf sia lo sport inventato dal diavolo come il tennis diavolo che a quanto pare in quanto a fantasia è secondo a nessuno ed è vero se giochi male vuoi tornare per migliorare se giochi bene vuoi tornare perché è una goduria lo so che cosa vi passa per la mente ma che sarà mai basta pensarci basta mettere in pratica quello che ti dice il maestro o magari guardare in loop i video dei campioni di oggi come rory mickilroy jordan spith justin thomas john ram e poi provare a copiarli in fondo un giocatore alle prese con lo swing si prende tutto il tempo di cui ha bisogno no basta osservarlo prima mette i piedi paralleli poi impugna il ferro osserva il green punta con lo sguardo determinato la bandierina poi la pallina la fissa proprio la pallina quasi le volesse parlare fa un passo indietro e simula il movimento poi ripete tutto da capo come un rituale magico costruito apposta per cercare di addolcire il campo di livellarlo di farselo amico e in tanti secondi passano tanti secondi forse troppi e nel golf quando è troppo il tempo si trasforma in tiranno è così lo dimostra il fatto che la pallina è ferma e quindi in teoria l'approccio dovrebbe essere molto più semplice rispetto a una palla sempre in movimento come nel tennis o nella pallacanestro il problema è che proprio nel momento in cui ti metti in ordine sulla palla è tutto il resto che comincia a girare ai 2000 rotelline che ti girano in testa e ognuna è un pezzo del tuo corpo che va controllato al millimetro le braccia così le gambe così le spalle così e più pensi più aumentano le possibilità di sbagliare certo persino michael jordan il più grande giocatore di basket della storia che anche un ottimo golfista dice che il golf è molto più difficile del basket perché hai troppo tempo per pensare tra un colpo e l'altro cosa che non avviene in sport più dinamici e veloci nella pallacanestro quando devi prendere una decisione non hai il tempo per pensare alle conseguenze una situazione simile forse quella che avviene nel calcio quando l'attaccante si ritrova solo davanti al portiere o quando deve calciare un calcio di rigore decisivo e pensa oddio lo sbaglio e poi lo sbagli davvero ecco nel golf succede spesso tutto il tempo che hai per pensare non è un vantaggio la verità è che in questo sport serve un equilibrio mentale superiore a quello necessario nelle altre discipline non perché lo sopravvaluti ma perché si passano tante ore in campo e per completare una partita non si può sbagliare nulla soprattutto se si gioca ad alti livelli eccolo un altro falso mito del golf quello secondo cui è uno sport per pensionati o gente allergica al sudore all'acido lattico beh non è proprio così abbiamo citato michael jordan ma ci sono tantissimi ex calciatori che oggi non possono stare lontani dal green alex del piero gabriel batistuta andry shevchenko il compianto vialli nomi che hanno fatto la storia del pallone nostrano e che ora passano parte del proprio tempo proprio come noi a maledirsi quando smarriscono lo swing loro imparano subito come tutti gli ex atleti se una persona in forma ha una buona preparazione fisica del tempo a disposizione fa in fretta anche a capire la meccanica dello swing perché riesce ad incanalare la potenza a dargli ordine e precisione soprattutto se invece non fa sport da una vita e magari può giocare solo una volta settimana allora ci metto un po di più ma è sempre in tempo per provare in ogni caso preparatevi a fare fatica basti pensare che un campo da 18 buche che la lunghezza standard del percorso di gara vi tocca percorrerlo a destra e a manca armandovi di energia e il conteggio chilometrico può arrivare anche a 10 11 chilometri in tutto sono 5 6 ore di pratica che si moltiplicano per quattro giorni nei tornei ufficiali quelli giocati dai professionisti e a proposito di professionisti per dovere di cronaca che si sa è la mia specialità dobbiamo dire che l'all in one alla mitica buca 16 del fenix open è riuscito anche un grande campione italiano come francesco molinari era il 2015 e francesco che è anche l'unico italiano ad aver vinto un major il british open del 2018 è stato l'ultimo a riuscirci erano passati 18 anni dall'all in one di tiger woods anche in quell'occasione di fronte a un altro swing perfetto il tpc scottsdale golf club dove si gioca il phoenix open si è incendiato dall'emozione e giusti amazzi litri di birra festeggiamenti incontenibili mentre francesco incredulo abbracciava chiunque gli capitasse a tiro ascoltate e poi diteci in tutta franchezza ma siete ancora sicuri che il golf sia uno sport per manieci dell'etichetta grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio